Sono 1.067.320 gli abruzzesi chiamati alle urne per il rinnovo di Camera e Senato e per indicare il Governo che guiderà il Paese per i prossimi 5 anni di legislatura. In tutta la Regione sono stati allestiti 1.644 seggi che apriranno domenica dalle 8 alle 22 e lunedì dalle 7 alle 15. Lo scrutinio avrà inizio al termine delle operazioni di voto, cominciando dallo spoglio delle schede per l'elezione del Senato. Hanno diritto al voto alla Camera tutti i maggiorenni, mentre per l'altro ramo del Parlamento è necessario il compimento del 25esimo anno di età. La provincia con il corpo elettorale più numeroso è quella chietina, con 319.632 aventi diritto al voto alla Camera e 293.352 al Senato. Seguono Pescara, Teramo e L'Aquila. 461 sono le sezioni in cui si vota in provincia di Chieti. 415 in quella dell'Aquila, 395 sezioni sono nel Pescarese e 373 nel Terramano. Si vota ancora con il vituperato sistema del Porcellum. Sulle schede, quella rosa per la Camera e quella gialla per il Senato, l'elettore può esprimere il proprio voto tracciando con la matita un solo segno nel riquadro che contiene il simbolo della lista prescelta. È vietato infatti scrivere sulla scheda il nominativo dei candidati o qualsiasi altra indicazione. La legge elettorale prevede per l'elezione della Camera e del Senato un sistema proporzionale con premio di maggioranza e soglia di sbarramento. Per poter esercitare il diritto di voto, gli elettori devono esibire, oltre a un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale. Chi l'avesse smarrita può chiederne il duplicato agli uffici comunali, che resteranno aperti per tutta la durata delle operazioni di voto, nelle giornate di domenica e lunedì. L'Abruzzo eleggerà 21 parlamentari, 14 deputati e 7 senatori. I deputati saranno frutto della ripartizione dei seggi a livello nazionale, mentre gli inquilini di Palazzo Madama saranno scelti sulla base dei risultati regionali. Alla coalizione vincente vanno 4 senatori, gli sconfitti si dividono gli altri 3. Alla Camera le liste in competizione sono 19, presenti sulla scheda in questo ordine Rivoluzione Civile, Forza Nuova, Amnistia, Giustizia e Libertà, Movimento 5 Stelle, Partito Comunista dei Lavoratori, Futuro e Libertà, Scelta Civica con Monti, Unione di Centro, Fare per fermare il declino, Partito Democratico, Centro Democratico, Sinistra Ecologia e Libertà, Casa Pound Italia, Intesa Popolare, Lega Nord, La Destra, Grande Sud, Popolo della Libertà e Fratelli d'Italia. Le liste in coalizione sono per il Premier uscente Monti, Fli, Scelta Civica e Udc, per il Centro Sinistra, PD, Centro Democratico e SEL, per il Centro Destra, Intesa Popolare, Lega Nord, Destra, Grande Sud, PDL e Fratelli d'Italia. Al Senato le liste invece sono 18, in quanto i tre partiti della coalizione di Monti si presentano sotto un unico simbolo e c'è Rialzati Abruzzo che corre solo per Palazzo Madama.